buongiorno a tutti benvenuti all'antiglobalista questa nuova rubrica su vox tv italia dove vi segnalerò le più interessanti pubblicazioni sulle testate internazionali sia dalla stampa mainstream che no parliamo per lo più di articoli che naturalmente non vengono minimamente contemplati e diffusi dalla nostra stampa nazionale che passano sotto traccia eppure sono molto molto interessanti naturalmente il tema del momento del covid 19 la pandemia che ci costringe a stare chiusi in casa e gli articoli che vi propongo questa settimana riflettono sulle ripercussioni che questo evento questo cigno nero come direbbe qualcuno avranno sull'ordine mondiale sull'ordine della politica internazionale e partiamo da un articolo molto interessante un'analisi del professor stefan walt chi è stefan walt è un importante accademico di harvard uno studioso delle relazioni internazionali un esponente della scuola realista che cosa dice stefan walt in questo articolo è pubblicato qualche giorno fa su foreign policy insieme ad altre firme ma credo che il suo la sua visione sia quella più interessante che merita di essere analizzata la pandemia scrive walt rafforzerà lo stato rafforzerà il nazionalismo i governi di tutti i tipi adotteranno misure di emergenza per gestire la crisi e molti disprezzeranno abbandonare questi nuovi poteri al termine della crisi attenzione questo è molto interessante covid 19 accelererà anche lo spostamento del potere dall'influenza globale da ovest a est la corea del sud singapore e anche la cina hanno reagito meglio dell'occidente anche la stessa cina ha reagito bene dopo i suoi primi errori ciò che non cambierà nel prossimo futuro e dopo nel termine di questa pandemia è la natura fondamentalmente conflittuale della politica internazionale scrive steven walt le precedenti pestilenze come quella del 1918 non hanno posto fine alla rivalità tra le grandi potenze né hanno inaugurato nuova era di cooperazione globale non esiste non succederà nemmeno questa volta anzi scrive steven walt vedremo un ulteriore arretramento dell'iper globalizzazione poiché i cittadini guarderanno i governi nazionali per proteggersi e le imprese e gli stati per ridurre le vulnerabilità future quindi cosa ci dice walt in questa importante analisi pubblicata su foreign policy la globalizzazione a retra dopo la pandemia è la vittoria dello stato nazione un'analisi simile viene pubblicata su un'altra rivista molto importante sempre americana parliamo di foreign affairs la rivista del consiglio foreign e cosa dice dice più o meno le stesse cose cioè che che la pandemia cambierà per sempre l'ordine globale lo status degli stati uniti scrive foreign affairs come leader globale negli ultimi sette decenni è stato costruito non solo sulla ricchezza sul potere ma anche altrettanto importante sulla legittimità che deriva dal governo dalla fornitura di beni pubblici globali e dalla capacità di la volontà di raccogliere e coordinare una risposta globale a questa crisi la pandemia di coronavirus sta testando tutti e tre questi elementi della leadership americana ma finora washington non ha superato questo test e mentre washington vacilla pechino si sta muovendo rapidamente e abilmente per approfittare dell'apertura dal vuoto creato dagli errori degli stati uniti riependo appunto questo vuoto di cui ho appena fatto menzione per posizionarsi come leader globale nella risposta alla pandemia pechino infatti scrive foreign affairs sta lavorando per diffondere il proprio sistema i propri valori fornire assistenza materiale ad altri paesi pensate al caso dell'italia e persino organizzare la risposta alla crisi degli altri governi quindi secondo foreign affairs da questa pandemia il governo degli stati uniti uscirà ulteriormente indebolito la cina che ha una potenza mondiale in in grande crescita invece ne uscirà più forte queste sono le due pubblicazioni che mi che mi sento di consigliarvi questa questa settimana e a presto e grazie a tutti